Ciao a tutti e a tutti in questo bellissimo video, in questo video sono in piscina con la mia mucca di Parigi Stanno provando appunto per farvi vedere delle cose che faremo in piscina Ecco tutto qui, e niente, spero che questo video vi piaccia per vedere comunque delle nostre cose che facciamo in piscina Normalmente, non le facciamo perché comunque ci dice voi, noi siamo tan felice Io non voglio comunque sponsorizzare post che non posso, vi dico solamente dove sono e basta Io spero che questo video vi piaccia, ciao a tutti Adesso comunque noi, no Ciao a tutti 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 Ciao a tutti